aggredito in maniera spudorata ottimo niente cazzata ottimo però che schifo è se lo facciamo recuperare no 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 non ci credo autogol no no ragazzi no ma che avevi fatto tutto bene fino adesso ma sei un idiota no ma incredibile non si può vedere ma non si può vedere facciamo che non conta questo gol ma questo fa schifo veramente ma questo fa schifo c'è io ho sbagliato a fare il passaggio bello anche bello sì sì ma che schifo dai ma porca il parma proprio si chiara questa partita fa due tiri e due gol però figa becca due gol sbagato uno fa due tiri e due gol e sbagato non si può vedere non si può vedere ma per la non si può vedere